Benvenuti in questo video nel quale andremo ad aprire le nuove bustine dell'ultimissima espansione Pokémon, Lucentezza Siderale che mi sono arrivate grazie a mio amico Dennis che è qui con noi ed aprirà oggi la bustina di Parchia Io aprirò la bustina di Dialga, mio fratello Christian aprirà la bustina di Typholution di Zui Quindi, senza perdere altro tempo, cominciamo, lasciamo questi due da parte e comincio ad aprire Dialga Ragazzi, sono emozionatissimo nella prima bustina che apro di Lucentezza Siderale Cercherò di salvarla quanto più... come non detto... Fa niente, cercherò di salvare le prossime allora Intanto vedo già una bellissima carta Angolo, ok È un problema il fatto che io non abbia conservato la bustina, non importa Il codicino bianco 1, 2, 3, 4, 1 e 2 sopra Andiamo all'apertura Quindi, Growlite di Zui, bellissimo Bronzor Rufflet Quillfish di Zui Poi abbiamo Rowlet O Rowlet Energia Lotta Togetic Ursaring Carretto di scambio Distintivo Scroll Reverse E Tivol raro Bene, partiamo con l'apertura della seconda bustina Con Typholution di Zui come artwork E l'aprirà mio fratello Vediamo cosa troverà Speriamo di trovare qualcosa in queste bustine Per lo meno qualche V Non sarebbe male Addirittura le V alternative o le V max Non sarebbe affatto male Speriamo in bene Sto pilla ancora La bustina è creata così Il tempo ci sono difficoltà nell'apertura del pacchetto Di conseguenza Ci penserò Io Ok, le carte le metto di qui E Tieni il codicino Di qui Vuoi fare tu il trick? Lo faccio io Ok, trick 2, 3, 4, 1 e 2 Ok Allora, tieni qua Procede adesso All'apertura Qui abbiamo Stuntler Poi Bergmite Bellissimo Ippopotasse O Ippopotas Sin da qui Speriamo di trovare Typhlusion Scyther Poi Abbiamo Energia Fuoco Un distintivo scroll normale Magneton Per noi Poi un Palude Bocca Larga Bronzer Reverse E Il Cleaver V Cleaver V Buonissimo La prima poi Probabilmente l'ultima forse Di questo set Incredibile Dopo questa emozionante V La prima E Speriamo di no Ma probabilmente l'ultima Andiamo ad ottenere il pacchetto più pesante Quello di Palchia Che tra prendesi È il mio leggendario preferito Sto avendo difficoltà anch'io nell'aprire la bustina Forse questo è un segno di buon aspicio Spero proprio di Sì Anche se qualcosa mi dice Fino Non sono riuscito a salvare nemmeno questa bustina Ma ormai È la prassi Ci siamo abituati Codicino Di qua Poi 1 2 3 4 1 2 Va all'apertura il signor Danny che ci ha procurato queste guide 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 6 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15